Allora, io partirei dalla dirigente Antonella Cili, dirigente dell'Istituto della Rovere di Urbania. Dunque, il vostro è un modello scolastico che si ispira a quello finlandese, un po' più destrutturato, è una sperimentazione che non è nuova, c'è da dieci anni. Lei ci può raccontare che cosa state facendo? Allora, è difficile parlare del MOF, modello organizzativo finlandese, in poche parole, perché in realtà ogni porta apre su un'altra porta, io amo dire. Nel senso che non è un sistema, una sperimentazione definita, ma è in continua evoluzione, in continua apertura verso tutto quello che ci circonda, verso tutti i cambiamenti che sono in atto. Il punto principale è quello di cercare di far star bene a scuola, perché una delle cause maggiori della dispersione scolastica elevatissima che abbiamo in Italia è proprio ormai il grande disagio, la grande mancanza di sentirsi valorizzati che caratterizza i ragazzi e che quindi abbandonano, si allontanano sempre più da questo mondo di stress e di insoddisfazione che vedono nella scuola. Questo star bene a scuola dei ragazzi ovviamente si ripercuote su uno star bene a scuola dei docenti, perché evitano le situazioni conflittuali in classe. Si parte da cercare di eliminare quello che abbiamo individuato come uno degli anelli più deboli della scuola italiana, che è quello della stratificazione dei saperi, dovuta a un'impostazione di un orario scolastico fatto più su misura delle esigenze dei docenti che sulle esigenze della didattica. Quindi un orario che riduce le discipline che i ragazzi affrontano ogni giorno. Un orario tradizionale potrebbe portare anche a 4-5 discipline dove ci sono 6 ore di scuola. Con la nostra compattazione oraria sia in verticale che in orizzontale, i ragazzi arrivano ad affrontare 2, massimo 3 discipline al giorno. E in una continuità, anche nei giorni successivi, che permette una full immersion. Una full immersion che quindi ovviamente spinge naturalmente il docente a dover presentare lo stesso argomento in molte modalità diverse. Perché non è pensabile di fare un monte orario settimanale impostato tutto in maniera così compressa e soprattutto con una didattica frontale che è ancora quella prevalente. Quindi lavoriamo molto anche sulla formazione dei docenti ad approcci metodologici diversi. Perché dico loro che è molto importante che loro abbiano la consapevolezza e quindi la libertà di scegliere, a seconda della classica andavanti, dei problemi che devono affrontare, degli obiettivi che si prefiggono, del lavoro che vogliono fare, del contenuto che devono affrontare, devono scegliere una serie di approcci didattici che ritengono utili a quello. Con la prospettiva di essere sempre pronti a cambiare la loro direzione a seconda degli stimoli che arrivano anche dai ragazzi. Noi lavoriamo con grande apprendimento cooperativo, non abbiamo le classi impostate nel modo tradizionale, ma sempre con i banchi a isola in qualsiasi circostanza, ma soprattutto usiamo molto anche, non avendo purtroppo grandi spazi, usiamo molto le classi aperte. Quindi c'è una promiscuità tra i vari discenti, che non è soltanto all'interno dello stesso plesso, ma addirittura tra i diversi ordini di scuola. Io ho avuto la fortuna, sfortuna per altri versi, di avere un nome comprensivo. Quindi ho bambini che vanno dall'età di tre anni fino ai ragazzi che vanno 18-19, anche 20, in alcune situazioni. Quindi questa apertura, questa chiamiamola così promiscuità, si ripercuote anche proprio in verticale. Quindi abbiamo i ragazzi delle superiori che vanno a fare lavori, lezioni, eccetera, aiutano i bambini più piccoli, perché questo comunque li porta a una consapevolezza relazionale di autocontrollo, di capacità di lavorare sulle conoscenze che hanno per riuscire a modificarle e trasmetterle in maniera semplice e chiara. Quindi è un lavoro proprio di squadra, un lavoro di squadra. Di solito quando presento questo modo di lavorare nelle scuole, la prima dubbio che viene è, ma il programma? Lavorando così, come facciamo a fare il programma? Allora, io rispondo sempre che il programma lo facciamo noi. Non esiste un programma codificato che noi dobbiamo applicare costantemente, quotidianamente. Il programma non è il libro di 300 pagine, che se io alla fine del primo quadrimestre sono arrivata a pagina 100, come faccio a fare le altre 200? Siamo noi che costruiamo il programma. Il ministero c'è dato delle indicazioni. E quindi anche qui subentra proprio tutto un lavoro molto interdisciplinare. Anche perché abbiamo capito che lavorando in questo modo, lavorando insieme, si riesce ad approfondire e a svolgere anche molti argomenti in maniera aperta, in maniera critica, che è quello che proprio oggi manca in molte scuole. Perché c'è proprio quella trasmissione frontale dove appunto, come si diceva prima, l'insegnante si pensa ancora all'unico depositario delle conoscenze e quindi se il ragazzo non risponde come si aspetta precisamente l'insegnante, deve essere valutato negativamente. Stiamo cercando anche di rovesciare l'ottica di valutazione. In Italia purtroppo siamo ancora a un punto dove la valutazione è basata sul negativo. Quando ci si confronta con i docenti, si sente sempre dire non sa fare, non ha detto, non ha fatto, eccetera, eccetera. Quando si chiede a un docente qualcosa di positivo, questo ragazzo ce l'ha, molte volte restano spiazzati. I paesi di successo, invece, di successo scolastico, rovesciano questa prospettiva. Sanno partire da cosa sa fare il ragazzo. E quello valorizzano. E quello diventa un punto di partenza fondamentale. Quindi è assolutamente importante che si faccia questo rovesciamento di prospettiva valutativa. A me non interessa che vengano adottati i giudizi, vengano adottati i valutazioni, vengano adottati i numeri. Questo per me è secondario. È invece proprio fondamentale questo rovesciamento di prospettiva che ci deve essere. Perché altrimenti, che non usiamo i voti, che non usiamo i giudizi, che non usiamo le lettere, il nostro concetto di valutazione non cambia. Ed è questa la cosa più importante. Un altro scoglio che vorrei sottolineare è quello che arrivano sempre più nuovi docenti, come si diceva prima, che sanno affrontare solo la scuola nel vecchio modello, nel vecchio stampo. Perché è quello che li fa sentire sicuri. È quella che è la loro esperienza. Quindi è assolutamente necessario che ci sia un cambio di passo in questo. Ci deve essere uno stretto collegamento tra il mondo universitario e il mondo della scuola. Come ci deve essere anche uno stretto collegamento tra il mondo del ministero e il mondo della scuola. Perché purtroppo, molte volte, si procede su binari completamente diversi. Cioè, il ministero ha una sua ottica, una sua visione ideale, che poi si scontra sempre con quella che è la realtà, quelli che sono i bisogni della scuola. La scuola italiana, inoltre, ha molto più bisogno di autonomia. Perché ogni scuola ha una storia diversa, ogni scuola ha un contesto diverso. Se noi continuiamo con delle direttive estremamente rigide dall'alto, assolutamente non riusciremo a compiere questo cambiamento. Comunque, ritornando alla mia sperimentazione, quindi valorizzazione dei ragazzi, valorizzazione dei talenti, rovesciamento della prospettiva di valutazione, apprendimento cooperativo, grande apprendimento laboratoriale, perché i ragazzi oggi hanno bisogno di saper fare. Il progresso umano non è stato fatto soltanto con la ragione, ma è stato fatto anche con l'uso delle mani. Quindi, benvenga l'informatica, ma ci deve essere anche un recupero di quelle che sono le caratteristiche forti dell'essere umano. E' quello che io chiamo iniziare un nuovo umanesimo, un nuovo recupero di queste competenze per non lasciarle morire. Una didattica aperta, classi aperte sia in orizzontale che in verticale, quindi grande libertà anche di movimento e di organizzazione. I risultati li abbiamo? Per adesso sì, vedo i ragazzi che vengono a scuola volentieri, vedo che il numero delle assenze che prima erano stratosferiche si sono praticamente quasi azzerati tranne le proprie situazioni disperate. vedo un miglioramento soprattutto nelle competenze, perché poi comunque tramite le competenze loro possono arrivare alle conoscenze. Questo è, diciamo, in sintesi un pochino il percorso, perché poi se dovessi aprirlo per ogni ordine di scuola, ovviamente diventerebbe estremamente complesso. Ecco, perfetto. Facciamo un giro un po' di queste, grazie a professoressa Cilli, un giro di queste presentazioni, poi alcune domande ovviamente le facciamo. Io continuerei, siccome abbiamo parlato anche di valutazioni, passerei il microfono al professor Vincenzo Arte del Morgagni. ce l'ha il microfono, ok? Se funziona, sì. Può tenerlo per dopo. Ecco, allora, voi siete anche finiti appunto sulla stampa, no? Si parlava di scuola senza voti e sicuramente i ragazzi sono più sereni, immagino. Le valutazioni non è vero, ci sono. Allora, volevamo chiedere come è nato questo percorso, che cosa state sperimentando e anche che esito state vedendo nella vostra scuola. Ok, grazie. Grazie dell'invito, salve a tutti. Allora, sì, io sono Vincenzo Arte e insegno al Morgagni matematica e fisica. Perché siamo partiti? Allora, la nostra è un'esperienza che parte da esigenza dei docenti. Quindi non è un progetto presentato a livello di scuola, di istituto scolastico. Eravamo alcuni docenti che volevamo, forse eravamo partiti un po' anche delle domande del professor Schartz, spero di pronunciarlo bene, e volevamo provare a fare qualcosa di diverso. Per cui, diciamo, anche il campo di intervento era limitato. Avremmo voluto allargare le mura delle aule, ma non potevamo farlo. Avremmo voluto diminuire il numero dei ragazzi per classe, ma non potevamo farlo. Avremmo voluto fare altre cose, ma non potevamo farlo. Quello che potevamo fare è stato incidere su alcune cose. Pure noi abbiamo cinque pilastri. Il primo pilastro è la cornice, è quello delle relazioni. Secondo noi la didattica è relazione, passa per le relazioni, ma è veramente relazione, e quindi abbiamo provato anche a modificare tutta l'impostazione delle relazioni della classe. Per cui, anche noi abbiamo le classi che sono o in modalità operativa a isole di lavoro, o se no sono strutturate a ferro di cavallo, dove ci si può guardare in faccia tutti quanti. Interrompiamo la didattica, in qualsiasi momento ci siano delle problematiche da discutere con i ragazzi. E mensilmente, soprattutto quando siamo partiti, noi siamo partiti sette anni fa con una sola classe, poi ogni anno si aggiungeva una nuova classe, quella andava avanti, e se ne aggiungeva un'altra. E mensilmente ci riunivamo con tutti i ragazzi e tutti i genitori, e continuiamo a farlo con le prime classi. Questa riunione con tutti i ragazzi e tutti i genitori faceva parte del nostro processo di ricerca-azione, cioè stavamo cercando una strada nuova da percorrere, e volevamo farla insieme a loro. E devo dire, ha funzionato, nel senso che ci sono stati utilissimi questi incontri, erano delle riunioni di comunità, di 50-60 persone tutte insieme che si riunivano. E quindi questa era la cornice delle relazioni. Poi abbiamo cercato di intervenire, dove potevamo intervenire? Sulla lezione e sulla valutazione. La lezione, quindi anche noi, il modello cooperativo, ci siamo ispirati anche noi un po' al modello finlandese, a quello che ci dicevano, che ci dicono i pedagogisti da tempo. Insomma, la didattica tra pari funziona benissimo. Funziona benissimo per vari motivi, loro sono più stimolati, sono più contenti di farla. Si parlano tra di loro un linguaggio, anche quello cerebrale, quello che non passa per le parole. Ci si fidano molto l'uno dell'altro, eccetera, e quindi la pedagogia tra pari funziona. Quindi il modello cooperativo a tanti livelli, che siano i lavori di gruppo, che sia tutoraggio, eccetera. Ecco, professore, fate anche verifiche, no? In coppia. Facciamo qualcuno, sì, qualcuno di noi fa anche verifiche di coppia o di gruppo, assolutamente sì. Ci siamo inventati un po' di cose, ce le siamo dovute inventare, diciamo, durante il percorso. E l'altra cosa su cui volevamo puntare è che questi ragazzi comunque stanno a scuola tanto, tante ore. Passano sei ore al giorno, mediamente, nel nostro liceo, che funziona cinque giorni a settimana. Sei per cinque fa trenta, insegnando matematica lo so, e trenta mi sembrano già abbastanza di ore di impegno su un qualcosa. A noi, se ci dicono lavora trenta ore a settimana, ci sembra già un buon numero di ore. Se a queste, se queste le facciamo raddoppiare, perché poi ogni insegnante tende a andare un'oretta, un'oretta e mezza di compiti, se non due ore di compiti, perché magari quel concetto va fissato bene per materia, ogni giorno, allora i ragazzi tendono a lavorare 50-60 ore a settimana, che è veramente, dal nostro punto di vista, era veramente esagerato. Quindi abbiamo cercato, facendoli lavorare tanto in classe, rendendoli tanto attivi in classe, di efficacizzare il tempo scuola, di renderlo molto efficiente. Quindi si lavora tanto in classe, loro sono attivi e protagonisti in classe, quindi già apprendono in classe, non c'è la lezione frontale, c'è quando è necessario, naturalmente ce ne sono le lezioni frontali, ma sono molto limitate. C'è l'apprendimento cooperativo, loro si esercitano tanto in classe, hanno meno bisogno di andare a casa a fare i compiti e quindi si usa il tempo scuola, il terzo pilastro. Relazioni, il modello cooperativo, uso efficace del tempo scuola e poi la valutazione. Noi potevamo incidere lì, togliere i voti, non dalla pagella, ma togliere i voti in itinere. Allora, nella scuola italiana nessuno ha l'obbligo di mettere i voti, nessuno ha l'obbligo di interrogare, nessuno ha l'obbligo di fare compiti, perché la normativa scolastica italiana, ci dice che noi dobbiamo avere delle valutazioni periodiche. Avere delle valutazioni periodiche non vuol dire che siano numeriche, né vuol dire che la valutazione debba dipendere da una performance, da una prestazione. Quindi io posso valutare il mio ragazzo semplicemente perché lo vedo lavorare tutti i giorni, so come valutarlo, so cosa sta apprendendo, cosa non sta apprendendo, so quanto sforzo sta facendo, quanto si sta impegnando e quanto no. E allora abbiamo tolto i voti, è stato quello che ha colpito tanti e quindi anche sia se facciamo performance, prestazioni, compiti, eccetera, sia se non li facciamo, le nostre valutazioni tendono a essere formative, che è quello a cui dovrebbe servire la valutazione. La valutazione almeno durante l'anno dovrebbe essere un mezzo, non un fine. è il mezzo appunto per migliorare l'apprendimento, per migliorare la nostra stessa didattica e tutto quanto, invece spesso lo utilizziamo anche se ciò lo nascondiamo come fine. Quindi noi per esempio il primo anno abbiamo fatto tutto un percorso sull'osservazione senza giudizio, per cercare di stare a fianco dei ragazzi e lavorare con loro, cercando di astrarci il più possibile dal giudizio, di accompagnarli nel loro percorso astraendoci dal giudizio. E niente, quindi facciamo un percorso durante l'anno in cui le nostre valutazioni sono formative, appunto, sono di tipo descrittivo, descriviamo a parole cosa stanno facendo bene, cosa stanno facendo male, dove si stanno impegnando, cerchiamo di partire, come diceva la dirigente Antonella, dalle cose positive. Poi affianchiamo, perché siamo docenti italiani, non possiamo farne a meno, anche le mancanze, il docente italiano normalmente parte dalle mancanze, da cosa manca per avere l'eccellenza, il Dio, tutti devono aspirare al Dio, qualsiasi cosa ti devo trovare quello che non va. Quindi le valutazioni sono descrittive, sono orientative, cercano di orientare i ragazzi nel loro percorso e poi ci sono molte autovalutazioni, il quinto pilastro, cioè tendiamo a fare autovalutare loro stessi in modo che prendano coscienza, metacognizione del loro percorso, di quello che stanno facendo e che devono fare. Diciamo, questa è un po' la struttura che ci siamo dati. Ritornando alla domanda di partenza, siamo partiti, allora, la metà di noi si era formata la SIS come insegnante, io ho un percorso diverso, io ho fatto ingegneria, ho fatto per un po' di anni l'ingegnere, il formatore nelle aziende e dopo mi piaceva il mondo della scuola, mi sono buttato nella scuola. Però, prima di entrare a scuola anch'io ho fatto la SIS, che era questa scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario che non è che funzionasse benissimo, come tutte le cose italiane aveva dei difetti, però era probabilmente un percorso giusto per finire in cattedra, per finire nelle classi, perché gli insegnanti lì si formavano e si formavano anche su materie psicopedagogiche. Noi insegnanti tendiamo sempre a dire noi non siamo psicologi, io non posso fare lo psicologo in classe, devo insegnare, è vero, però un minimo di nozioni di psicopedagogia dovremmo avere. Vado avanti? Oppure facciamo un giro. Allora, no, ci spostiamo a Modena per un istituto comprensivo voi avete infanzia, no, poi se volete ovviamente fra di voi reagire a quello che sentite, ma poi vi faccio altre domande, insomma, voi avete infanzia, elementari e medie, avete destrutturato un po' gli spazi, era interessante, no, quello che ascoltavamo prima, anche sulle aule mi sembra che lo sforzo di lavorare sulla sistemazione e lo spazio in classe sia molto comune alle vostre esperienze, chi ha isole, chi ha ferro di cavallo, cosa avete fatto, Daniele Barca? riusciamo a mandare il filmato? perché, buongiorno a tutti, è più narrativo il filmato, è un po' enfatico, io mi vergogno un po', però racconta meglio delle mie parole, così vediamo questa scuola, questa è la scuola media, questa la vedete, togliete le enfasi e la retorica, la scuola secondaria di primo grado Mattarella, che è la scuola dove ci troviamo, fa parte di un istituto comprensivo, che è l'istituto comprensivo 3 di Modena, siamo collocati nella periferia sud di Modena in un quartiere molto misto, da subito la strategia che gli insegnanti che hanno creato questa scuola è stato proprio quello di lavorare su autonomia e relazione e quindi la prima scelta naturale è stato creare i dipartimenti, i ragazzi ruotano nella scuola, girano per le aule perché ogni aula appartiene all'insegnante e quindi a piano terra ci sono i dipartimenti di italiano, sopra c'è quello di matematica e scienze, quello di lingue, questo ha dato subito un'impronta di massima autonomia il fatto di stare sempre in classe un po' in qualche maniera comprime l'atmosfera e invece il fatto di girare per la scuola fa sentire ai ragazzi che sono della scuola e contemporaneamente anche il personale sente che i ragazzi sono di tutti e non soltanto di una classe. ogni studente ha un suo dispositivo questo favorisce la partecipazione il mettere in gioco i propri talenti se lo studente non può la scuola glielo fornisce in comodato d'uso e quindi oltre ai libri in qualche modo abbiamo uno strumento tecnologico per fare scuola questo favorisce la didattica attiva fatto sì che negli ultimi anni proprio per potenziare il fatto di io lo chiamo tenere i ragazzi nel cerchio tenere i ragazzi dentro scuola al tempo stesso aprire la scuola al territorio abbiamo creato i club che sono laboratori multidisciplinari noi le chiamiamo le STEM sisters sono materie non materie dove dentro ci sono varie materie e al tempo stesso il tutoraggio questo viene fatto con l'aiuto degli insegnanti di sostegno che quindi non fanno soltanto l'uno a uno nel sostegno ma lavorano davvero con porzioni intere di classi e al tempo stesso è davvero un elemento efficace nella lotta all'abbandono perché significa che proviamo a seguire tutti quanti secondo un curriculum personale noi consideriamo l'anno scolastico come un unico periodo naturalmente da norma da decreto legge noi diamo la valutazione finale con i numeri come sempre però nel corso d'anno facciamo una valutazione formativa che chiamiamo narrativa scriviamo una lettera al ragazzo tra le varie valutazioni che diamo in cui diciamo ecco hai fatto del tuo meglio ecco stai migliorando ecco cerca adesso di dare di più proprio con l'idea di non abbandonare nessuno e che il voto non sia un sistema per selezionare ma come dice la Costituzione sia un sistema per rimediare alle difficoltà di tutti quando siamo partiti avevamo all'incirca una decina di casi di abbandono ovviamente col lavoro che si prova a fare per cui si tenta di tenere i ragazzi dentro di valorizzare le loro competenze di non seguire soltanto il leggere scrivere e far di conto ma anche di valorizzare quelli che noi chiamiamo i talenti attualmente abbiamo un livello zero addirittura portiamo all'esame facciamo parlare per 15 minuti nel famoso colloquio multidisciplinare anche i ragazzi che davvero hanno delle storie di studio delle storie di scuola faticose uno dei problemi della chiamiamola l'antica scuola media è il progettificio si fanno tanti progetti ma per pochi la caratteristica forte di questa scuola è invece fare pochi progetti individuati ma per tutti quindi per tutti e 300 questo secondo me è un elemento forte per includere tutti quanti anche i ragazzi che hanno delle effettive difficoltà di apprendimento un'azione così dove saperi accompagnamento inclusione tecnologia si mettono in gioco richiede moltissima formazione per gli insegnanti e contestualmente moltissimo coordinamento tra di loro allora grazie possiamo terminare allora quindi ho rubato due minuti e mezzo del mio intervento però secondo me è significativo questo dico solo poche cose io non ho fatto il concorso per insegnare la scuola media perché non amo non amavo la scuola media sono arrivato in questa realtà ora sono sette anni che ci lavoriamo mi sono profondamente innamorato io vengo liceo insegnavo altalete a Roma ho fatto quella storia il grande tema è che noi continuiamo a fare una scuola media che quest'anno fa 60 anni a proposito di date Paolo 60 anni ma 60 anni fa c'era andatevi a rileggere quello che c'era c'era Moro fece lui col primo centro-sinistra la scuola media unica c'era Kennedy c'era oggi è stato citato dal professore Martin Luther King I have a dream è proprio del 63 era un mondo diverso una società diversa l'Italia era rurale e noi proponiamo ancora quel modello di scuola con piccolissime modifiche è un po' cambiato l'esame non c'è più il latino facoltativo io sono stato l'ultima generazione del latino alla scuola media il primo atto che fece Moro fu di eliminare la prova scritta di latino all'esame di scuola media perché esisteva una scuola media ma non era la scuola media unica insomma noi siamo partiti da lì io ho avuto la fortuna di incontrare sette anni fa questo manipolo di insegnanti sognatori che volevano fare le aule laboratoriali e quindi all'inaugurazione di questa scuola io dico sempre attenzione i genitori rimangono colpiti agli armadietti al computer non è questo è il contenuto che c'è dentro e allora all'inaugurazione di questa scuola loro hanno voluto che ognuno avesse la propria aula avete visto che c'erano i nomi a proposito dei compiti di realtà che citava il professore e tra l'altro fare in un liceo questa roba è molto più difficile farla in una scuola media però come dire quindi meritorio proprio il tipo di lavoro che fanno quelle scritte lì sono un compito di realtà ogni anche quelle del bagno perché poi tu spieghi che significa lavorare sui simboli poi li stampano quante stampanti 3D muoiono nei nostri laboratori noi ce le abbiamo in classe nel senso che l'insegnante si innamora dello strumento e diventa suo e diventando suo gli strumenti vivono se le persone li amano se no non vivono è così come dare i nomi alle aule la prima cosa che facciamo noi quando abbiamo un figlio o un animale lo chiamiamo per noi gli diamo un nome la prima cosa e perché non le aule e perché non i curricoli avete visto le Stan Sisters che so le Stan Sisters a un certo punto durante il covid avevamo i ragazzini che ci dicevano nei collegamenti ma guarda c'è la primavera ricordate quello brutto è marzo marzo giugno c'è la primavera le piante non è che le piante fiorivano solo in quel periodo ma è nata una sensibilità diversa su tante cose e allora abbiamo colto l'idea per cui abbiamo creato questi percorsi multidisciplinari l'usi quello dell'intelligenza artificiale pomposamente chiamato intelligenza artificiale in realtà smontiamo l'intelligenza artificiale la presentazione del professore di prima toccava molti dei passaggi che abbiamo fatto stiamo cercando di capire come funziona perché funziona andare a cercare le ragioni delle cose faccio un esempio molto banale fanno il riconoscimento facciale partendo dai disegni fanno disegnare i volti dei propri compagni poi con un'app giocano questo è il termine interessante prima lo fanno fisicamente li mettono lì su dei tavoli e iniziano a fare le categorizzazioni quello che fa appunto il sistema informatico e poi loro su questo fanno tutte le riflessioni su come funziona questo si chiama lusi tutte le sister hanno un nome femminile perché l'idea era proprio sapete la grande difficoltà nella nostra scuola che poi invece quando vanno all'università sono dei migliori cioè ci battono tu che vieni da facoltà scientifica è così ci battono 10 a 0 però nella scuola basica insomma c'è questo tema dell'avvicinare le ragazze alle materie scientifiche poi c'è Maya basta imparare a memoria l'agenda 2030 non se ne può più quelle 5 righe basta facciamo i coltivano a coltura idroponica a zappare un po' come fa la collega proviamo a mettere dei rilevatori dell'ambiente Modena è la città dove c'è più bronchita al mondo no? allora proviamo a rilevare ogni mattina qual è il livello dell'inquinamento e da quello facciamo perché sono multidisciplinari perché così come lusi anche Maya dentro ci mettiamo l'inglese perché certe cose vanno fatte in inglese l'italiano lo storytelling perché poi lo studente deve poterlo raccontare ai suoi pari o ai più piccoli c'è sempre questi passaggi di restituzione la matematica la scienza e naturalmente il digitale ogni ragazzo ha uno strumento spero abbiate colto nel video il passaggio che lo strumento non siamo l'ufficio postale dove ognuno ha lo strumento davanti aperto mi è piaciuta l'osservazione professore tutti col computer chiuso viene aperto quando serve quando l'insegnante ritiene che serve la macchina si apre magari ne apre tre su 25 noi abbiamo classica 25-26 magari ne apre tre su 25 ma è un modo di avere un ulteriore strumento di lavoro dopo Maya c'è Meri che è Maria Montessori mi piace molti i richiami che stamattina ritornano su quelle che gli esperti chiamano le competenze sociali c'è un libro molto bello di Damiano Previtali la scuola mediterranea noi siamo quelli che dovrebbero avere la vocazione della relazione ma la stiamo perdendo ci stanno chiedendo come scuola sempre più un livello di performance per affrontare il mondo e la paura del mondo lo dicevo prima al collega Paolo che ringrazio per l'invito è la paura del mondo che porta noi genitori perché anche io sono genitore a cercare che i figli possano fare la migliore scuola possibile la performance ma non è così noi dobbiamo insegnarli a stare insieme insegnarli a stare insieme e allora Meri sono proprio tutte le strategie che i tutor chi sono i tutor abbiamo un po' anticipato il decreto ministeriale a gratis nel senso che lo ricaviamo dalle ore dalle ore dei sostegni i sostegni dedicano delle ore nei due pomeriggi che abbiamo di rientro anche qui occupare la scuola oltre non solo la mattina nei due pomeriggi fanno esattamente questo potenziamento miglioramento da quest'anno anche l'autovalutazione abbiamo ogni ragazzo ha una sua griglia di autovalutazione non tutte le cose che facciamo perché se no faremmo solo autovalutazione però le cose più importanti che vengono sviluppate le fanno quindi Meri è proprio questo da Maria Montessori poi abbiamo Frida siamo il paese dell'arte della musica dentro Frida c'è il mondo c'è il club di jazz ma jazz è non solo musica ma è anche storia è anche strumento è anche tecnologia perché noi abbiamo tutti gli spartiti sugli strumenti digitali eccetera avete visto quella gallery finale no? anche quello è Frida realizza possiamo avere tutti i musei del mondo e possiamo costruire tutti i musei del mondo questo è pazzesco perché non è proprio immersivo come quelli belli che si vedono adesso in giro però avere un'immagine grande davanti ragazzi è tanta tanta roba l'ultima nata è Marghe da Margherita di Provenza Margherita di Provenza era un personaggio un po' universale la Provenza era un po' come l'America buona di tanti anni fa univa tante culture metteva insieme tanti mondi nell'Europa del Medioevo e così è la sister dei linguaggi trasversali dentro c'è la web tv la web radio che partono sempre dai contenuti del mattino cioè quello che viene fatto al mattino poi viene riutilizzato in questo chiudo le sister sono curricolari il grande tema giustamente diceva la collega il programma noi abbiamo un problema di linguaggio come scuola cioè per noi se non è una roba che sta dentro le righe del programma se non è qualcosa che in qualche maniera gli do una struttura viene sputata come cosa si vabbè ma questo è extracurricolare ma noi dobbiamo invece fare l'opposto prendere l'extracurricolare e buttarlo nel curricolare perché la vita è quella là il tema delle multidiscipline nasce personalmente dalla lettura del libro di Luciano Floridi il verde e il blu viviamo in un mondo in cui sì dobbiamo sapere l'italiano la matematica le lingue separatamente a canne d'organo ma dobbiamo anche farle dialogare tra loro perché il mondo che i ragazzi troveranno fuori soprattutto quelli più grandi è un altro è un altro è un altro mondo e chiudo con un piccolissimo riferimento tutto quello che ho raccontato io e che avete visto è nella norma cioè siamo andati ad acchiappare all'interno della norma tutto quello che potevamo fare chi si prende la responsabilità il sottoscritto il tema dell'autonomia è un tema fondamentale nella scuola quindi invito a leggere vi cito in chiusura totale il più bel documento che c'è sono le linee guida per la certificazione delle competenze è un documento che fa sognare poi dice che dobbiamo mettere i voti vabbè però è un documento che racconta delle robe allora andiamoli a leggere nel profondo le sette pagine del decreto sull'orientamento al di là delle questioni sindacali soldi non i soldi solo i soldi e le superiori quelle sette pagine sono illuminanti perché ti stanno dicendo che dobbiamo lavorare su persona e talento e persona e talento non lavori portando i ragazzini fuori dalla aula basta grazie allora è tutto molto molto interessante veramente si aprono dei mondi si aprono dei mondi perché abbiamo visto che anche i percorsi per gli studenti non sono tutti uguali allora c'è chi li ha interpretati con queste cinque macro macro classi diciamo ma e poi il mondo degli alunni oggi è così variegato che insomma non ci si può più in scatolare questo mi sembra una comune un'altra esperienza arriva da Trento con l'istituto artigianelli c'è qui Marco Franceschini anche voi avete un po' eliminato tra virgolette le classi avete insomma puntate tantissimo sul fare inclusione a scuola mi sembra che un po' uno dei fattori che poi emerge dai vostri racconti sia anche l'obiettivo di togliere una pressione che i ragazzi vivevano vivono nell'andare a scuola certo assolutamente sì lavoriamo di inclusione molto forte e mi piacerebbe anche lanciare uno spunto sarebbe bello fra qualche anno non parlare più di inclusione ma nel senso l'inclusione è una cosa ovvia scontata e oggi ne parliamo ed è importante quindi mi faccio anche aiutare però da alcune slide perché qualche infografica penso mi aiuti a raccontarvi un po' il nostro modello ma mi metto di qua e grazie dei vostri contributi anche al professore il tema della valutazione che è sul quale ci siamo buttati in questi ultimi periodi con i colleghi ecco vi parlo un po' da realtà degli artigianelli una realtà di Trento di una scuola nuova una nuova idea che è nata vorrei dire 15 anni fa se posso andarci un momento che momento era il momento in cui Steve Jobs così mi ricollego anche al nome che ha già citato e lanciava iPhone che oggettivamente oggi lo viviamo tutti è nulla fuori con telefono e per noi che ci occupiamo di grafica comunicazione è stato un momento di cruciale di svolta perché cambiava il nostro modello di fare formazione verso i nostri ragazzi e già Steve Jobs nel 1984 aveva lanciato Macintosh che aveva già fatto un primo percorso tecnico e poi è arrivato con questa grande novità abbiamo intuito che qualcosa stava cambiando le aziende ci chiedevano di cambiare i nostri ragazzini erano bravi non c'erano grandi difetti uscivano trovavano lavoro lavoravano ma in realtà c'era un mondo che cambiava una città che cambiava e quindi noi come gruppo docenti di direzione abbiamo detto proviamo un po' a sognare pensare una cosa un po' diversa perché il mondo ce lo chiede e c'è tanto tanto bisogno quindi ci siamo un po' rimboccati le maniche abbiamo anche un po' sfondato un po' di cose standard perché io come insegnante sono arrivato in aula e la prima cosa che ho fatto è replicare quello che avevo imparato dai miei insegnanti pensando magari a quelli più bravi più empatici e copiavo il loro modello e quindi qua abbiamo dovuto invece fare un pensiero di dire pensiamo in un modo totalmente differente per raccontarvi questa storia mi faccio aiutare magari dei due allievi e ho dimenticato il telecomandino ecco qua mi faccio aiutare da Chiara e da Francesco i nomi sono di fantasia ma le storie sono vere e Chiara è una ragazzina che è arrivata a scuola con una certificazione quindi con dei bisogni educativi speciali leva bisogno di più tempo nel fare le cose matematica italiano e brava in inglese perché? perché lei ama le storie e le serie tv in inglese quindi molto molto brava a fianco invece questo Francesco un brichino un ragazzino che ci ha fatto disperare ma molto intelligente si era visto subito un ragazzo che va a marcia in più in matematica quindi probabilmente un grande allievo per te e potremmo definirlo forse un ragazzo dotato oggi gifted boy e questi sono due ragazzi molto diversi ma per noi avevano una cosa in comune che era quella il bisogno di avere un percorso per loro dove potessero stare bene e vedete nella scuola riparto anch'io come diceva il presto di dipendenza nella scuola della riforma gentile quella nostra di allora del 2005 2006 questi due ragazzi andavano dentro una scuola classica nella stessa classe con chiaramente delle misure compensative dispensative perché per fortuna gli ultimi anni insomma su cui abbiamo fatto grandi passi avanti ma in realtà insieme poi se abbiamo budget ci mettiamo nei sedanti di sostegno per qualche ora ma se non c'è bisogna un po' giocarsela qua viene avanti chiaramente il docente che se è veramente un architetto bravo può fare la differenza da noi invece è così che questi ragazzi vanno a fare dei percorsi personalizzati non abbiamo più le classi non lavoriamo sull'impianto rigido ma è modulare pensate un po' a un modello universitario per capirci corsi i miei colleghi di corsi all'università erano diversi in base a dove arrivavo e il nostro modello è più o meno questo che però nella scuola superiore non è così comune così diffuso e quindi dove avviene questo? avviene agli artigianelli una scuola di grafica di comunicazione una scuola superiore di 5 anni parte come scuola triennale quindi tecnica dove appunto formiamo i nostri ragazzi nella grafica e nella comunicazione multicanale poi c'è un quarto anno in alternanza sul modello duale tedesco è allora un pochino copiato proprio dalla Germania e poi c'è una quinta con un diploma di Stato ecco la nostra avventura chiaramente un cuore grafico è molto importante perché questo è il nostro cuore noi formiamo dei grafici come scuola tecnica ma oggi possiamo dire che è semplicemente lo scopo finale tutto il resto su cui abbiamo lavorato è tutt'altro per capirci e la voglia di creare giovani che fossero dentro ad una formazione trasversale molto più alta ci ha portato a costruire un sistema un ecosistema per fare in modo che dentro la scuola l'insegnante non fosse solo questo è molto importante secondo noi cioè un insegnante da solo può fare il suo pezzettino lo può fare molto bene lo può fare in modo ispirato ma forse oggi a questi ragazzi non bastiamo più noi docenti quindi si è creato un ecosistema fatto di quindi una comunità educante potremmo dire che mette un pezzettino ognuno per formare i nostri allievi quindi vicino al mondo scuola come vedete abbiamo qualche aula aperta verso l'università c'è un po' di ricerca con FBK c'è il mondo del lavoro abbiamo delle cooperative sociali e questo meccanismo dentro la scuola permette allo studente di vivere una realtà molto forte e pensate a un ragazzino magari pensiamo a Francesco no? che si può andare a fare un'attività FBK per mettere in campo una matematica avanzata ok? o la ragazzina brava in inglese che a un certo punto la togliamo dall'aula e la mandiamo a fare un'esperienza all'estero durante le lezioni e qua chiaramente abbiamo rovesciato un sacco di cose e queste idee nascono perché? perché quando era il 2007 abbiamo capito che c'era modo di cambiare bisogno di cambiare abbiamo cominciato a studiare come oggi no? condividere e ognuno di noi si porterà via qualcosina per provare a riportarlo nella scuola e abbiamo cominciato anche a vedere dei modelli quando torni da un viaggio e vedi che è possibile fare qualcosa ti viene veramente voglia di farlo non puoi non negare dire la scuola italiana non può cambiare è impossibile e quindi dentro questo luogo possiamo crescere possiamo fare sinergia un ragazzo vive una realtà dove il sapere e il fare non è più una contrapposizione che in Italia è molto noi siamo una scuola dove si fa dire al ragazzo guarda che il sapere e il saper fare è tutta una cosa positiva è molto importante secondo noi perché porti i ragazzi a bordo li porti con te parlando di grafica chiaramente abbiamo i nostri elementi questo è il nostro cuore ma arriva un po' il dunque di oggi se noi vogliamo che Chiara e Francesco abbiano il loro futuro e vengano valorizzati stanno bene stare bene vuol dire che arrivano in aula e sono nel posto giusto non sono in invece in uno spazio troppo grande troppo piccolo per loro ma si realizzano stanno bene ecco che allora abbiamo cominciato a dire via le materie e via le classi che è una cosa molto forte ma succede ed è reale ormai da qualche anno in un cantiere aperto che magari oggettivamente ogni giorno è un'avventura è un ripensare o riprovare ma che succede? Manzi ce lo diceva molto bene rivolto ai ragazzi in quel caso magari erano adulti ma fa quel che può quel che non può non fa non possiamo chiedere a sto ragazzino a sta ragazzina di andare veloce perché non ce la fa non ce la può fare e soprattutto per lei un diritto umano psicologico pedagogico invece avere un percorso che la valorizzi quindi tutto può partire anche da questa frase che è stata detta 80 anni fa quindi ecco qua quattro punti fermi importantissimi volevamo facilitarlo l'inclusione chiara favorire l'eccellenza Francesco e poi sviluppare le soft skills perché le aziende ci credevano ragazzi svegli le tecnologie in 15 anni sono i nostri allievi li formiamo ma faranno un lavoro diverso lo sappiamo e poi rispondere a delle specializzazioni tecniche quindi abbiamo superato il gruppo classe abbiamo creato un impianto modulare abbiamo dei percorsi personalizzati quindi non avere la classe vuol dire che ogni ragazzo ha un suo percorso e quindi c'è un consiglio di classe per ogni studente questa è la cosa forse più più grossa da gestire e come vedete valorizzare le competenze essenziali lavorare su gruppi di livello e peer education non voglio annoiarvi però in poche slide questo è un meccanismo che ha probabilmente significato 10 anni di lavoro e vedete bene non abbiamo più gli insegnanti di sostegno quindi forse abbiamo messo in campo nella grafica è molto bello less is more abbiamo tenuto soltanto le cose importanti abbiamo tolto classi, materie gli insegnanti di sostegno ma facciamo inclusione e cosa succede? che la nostra scuola è fatta a corsi le materie poi arrivano in pagella ci sono il ministero al momento ce le chiede ma è fatta a corsi quindi vedete questi tassellini sono dei corsi base quelli grigi scuri sono obbligatori ok abbiamo quelli opzionali quelli personalizzati e quelli aziendali ora per ogni studente chiaramente se fossero tutti uguali gli studenti per fortuna non è così basterebbe fare i corsi base tutti uguali ma non avremmo innovato nulla avremmo trasformato le materie in corsi invece il meccanismo è qua quello bello che per Francesco chiaramente con un PDP e Francesco abbiamo lasciato quelli obbligatori ma abbiamo cominciato a pulire alcuni corsi di base perché lui era troppo avanti non gli facciamo fare la matematica di base se lui sta già lavorando su cose più altre e quindi quel corso di matematica lo va a fare in azienda ok magari mettiamo che dei corsi opzionali che a lui servono quindi c'è un curriculum personalizzato Chiara del suo stesso anno invece ha di nuovo i corsi base obbligatori perché la matematica comunque dobbiamo farla magari con lei con metodologie diverse ma lei fa tanti percorsi personalizzati quindi i suoi compagni di classe non ci sono più ci sono dei compagni di corso non è facile forse raccontarlo in pochi minuti però il meccanismo è questo chiaramente dietro c'è una divisione per gruppi che ruota un trimestre non abbiamo come da voi le classe le aule ferme ma c'è l'aula ferma ma i ragazzi girano e quindi ci sono i meccanismi poi abbastanza grossi e soprattutto dividiamo i gruppi ogni anno arrivano da noi 75 studenti quindi la scuola è piccolina sono 400 in tutto e li dividiamo vedete in RGBY non più A, B, C, D perché tornavamo sulla classe sezione A sezione B gruppo R significa che i nostri ragazzi in inglese sono divisi in RGB magari per competenza per livello livello in inglese in matematica invece sono divisi per un'altra modalità ma l'R non coincide nei corsi quindi nel gruppo R i ragazzi cambiano in base al corso che fanno quindi c'è un grande caos mi direte no in realtà è tutto molto ordinato tutto funziona anche se è tutto molto strutturato ruotiamo i gruppi periodicamente a trimestre e la cosa forse ancora più bella è che in alcuni momenti mescoliamo qua a destra dei corsi ragazzi non più per classi di età ma per competenze ragazzi di seconda lavorano con le terze perché non è l'età che fa la differenza noi lavoratori lo sappiamo nessuno di noi è raro essere coscritti ok arriviamo e portiamo il nostro contributo quindi un ragazzino di seconda il bollo rosso potrebbe essere il corso di packaging è insieme ai ragazzi di terza e probabilmente può benissimo insegnare anche al ragazzo più grande qualcosa ecco questo è un po' il quadro anche sintetico di come è organizzato ma dietro c'è tanto di più perché per arrivare a fare questo bisogna lavorare sulla metodologia ok quindi c'è un impianto ma se questo lo prendessimo lo portassimo in una scuola non funziona non funzionerebbe ci vuole la metodologia perché tutto è basato a progetti quindi dobbiamo portare i ragazzi a trovare soluzioni non c'è più il docente che arriva e fa la lezione frontale il problema non è più quello io ho l'ansia mi ricordo la lezione è pronta sì sono un valproiettore piano B ora il problema c'è ai miei ragazzi ti do un progetto portami la soluzione come dicevi tu ti metto in primo piano ti metto protagonista quindi ecco metodologie grandissimo lavoro con i prof e imparare anche degli spazi e mi ricollego di robo al professore perché questa è l'aula del 1923 questa è quella del da noi del 2003 non cambia nulla come facciamo a sviluppare soft skills qua dentro se i ragazzi non si vedono non si parlano non possono risolvere problemi quindi lavoriamo oggi in classi come queste dove i ragazzi si guardano parlano discutono litigano e quindi problem solving empatia e lavoro di gruppo lavoro insieme chiaramente il docente si è rivisto tutto è mediatura dell'apprendimento quindi il passo grande l'hanno fatto proprio i docenti su questo gli spazi non è uno scherzo perché dietro c'è un progetto di di fare spazi che i ragazzi accettino e quindi abbiamo fatto un progetto di ricerca i ragazzi accolgono gli spazi li curano non abbiamo chi li pulisce ma sono i ragazzi e in questo caso proprio sono loro che poi vengono premiati con un computer mi aiuta a pulire l'ambiente io ti do un computer perché diventa un modo per valorizzarti e nuovamente di fare comunità qua vedete adesso dal vivo alcuni spazi è un cantire aperto dicevo quindi di settimana in settimana proviamo un pochino a innovare però la logica è un pochino questa chiaramente i docenti è vero sono gli architetti di tutto quanto in aula va il docente e quindi c'è un grande lavoro da fare con loro il suggerimento è prima di tutto i docenti e poi il resto arriva e quindi c'è un grande lavoro di aggiornamento di condivisione delle metodologie di lavorare fuori aula per andare poi in aula che ciascuno faccia bene quello che può fare e tanti tanti momenti di incontro ho visto qualche collega in aula che veramente farà un sorriso o qualche lacrima perché veramente abbiamo messo ore e ore per mettere insieme queste cose chiudo che dietro a questo progetto c'è un'organizzazione che è stravolta non è rimasto più nulla neanche di quello perché pensate che questi ragazzi sono un continuo cambiamento e quindi banalmente c'è un QR code sono bravi i ragazzi ma è solo il primo giorno qualcuno si perde lo trovi nel cortile che dice non so in che aula sono in che gruppo sono ma poi è facile con la mappa si arriva c'è un registro elettronico ad hoc non potremmo far nulla altrimenti gli scutini non ci sono più i 12 insegnanti che valutano un ragazzo una classe ma c'è un gruppo di 30 docenti che a turno valutano quello studente questa è una grande complessità è enorme penso che c'è qualche insegnante in aula lo coglie molto bene e c'è uno staff che chiaramente cura i percorsi personalizzati quel giochino di Chiara e Francesco non è banale perché devi fare un progetto che abbia un significato abbiamo poi tolto un po' di cose i campanelli abbiamo tolto le cattedre e non servono il professore non è più lì ma è da un'altra parte è attorno ai tavoli e stiamo lavorando sul benessere mi è piaciuto perché anche il professore prima diceva è importante questo perché se un docente arriva in aula chi è centrato fai scuola fai formazione ma se arrivi in aula che sai che non ce la fai chiaramente è molto molto difficile dove sono Chiara e Francesco? Chiara ha ottenuto la qualifica è contenta ha fatto l'esperienza all'estero lavora in una cooperativa sociale come grafica e quindi si è fatta la sua vita mentre Francesco è andato avanti da birichino che era è avuto fuori la sua forza e quindi oggi ha laureato in fisica lo ha fatto in Inghilterra e oggi è anche un nostro collega dentro la scuola e la cosa bella e chiudo qual è? che abbiamo fatto un grande ribaltone per Chiara perché volevamo includere Chiara ma in realtà abbiamo capito che anche Francesco lo abbiamo valorizzato quindi fai un qualcosa per chi pensi veramente abbia bisogno ma ti accorgi che fai un bene anche all'altro quindi questo è un po' il nostro impianto con un cantiere aperto con mille sfide che però ci sembra stia funzionando grazie siccome abbiamo ancora qualche minuto io mi ricollego a quello che ha detto il professor Franceschini sullo sforzo anche diciamo l'impegno la sfida che è chiesta agli insegnanti per entrare in scuole in un sistema scolastico che non è quello canonico allora siccome nessuno di voi penso sia neolaureato e di primo pelo nella professione io volevo chiedere intanto magari chiedo poi se ci sono domande in sala per gli ultimi minuti ma come siete cambiati voi in questo approccio scolastico e che cambiamento avete dovuto chiedere agli insegnanti perché visto che nella lezione di questa mattina abbiamo sentito che si tenderebbe ad approcciare la classe nello stesso modo in cui abbiamo come abbiamo ricevuto noi a scuola per cui abbiamo in mente quell'aula là come si cambia e che cosa è successo nel vostro percorso professoressa allora io ho avuto la fortuna di entrare in scuole che erano in forte crisi chiaro mancavano gli iscritti erano proprio in un stato abbastanza malmesso e quindi ovviamente questo ha spinto gli insegnanti a mettersi in gioco e questo mi ha aiutato molto perché praticamente da un giorno all'altro abbiamo deciso di operare diversamente e quindi abbiamo usato il periodo pre-lezione per impostare l'avvio di tutto poi perfezionarlo in corso d'opera sicuramente in entrambe le situazioni sia a Pian di Meletto sia a Urbani con tutta la scuola che ha avuto la regenza c'è stato moltissimo da lavorare ho trovato insegnanti che sono andati al di là del discorso tempo stipendio ore previste eccetera eccetera per le riunioni e per i vari adempimenti sono insegnanti che si mettono in un gioco sempre non c'è sabato non c'è domenica non siamo sempre in contatto e costruiamo continuamente questo percorso insieme un'altra cosa che devo far notare è che molte volte delle difficoltà vengono anche proprio dalla parte dell'utenza esterna cioè delle famiglie le famiglie molto spesso forse nelle grandi città diverse ma magari nelle realtà più piccole c'è più chiusura meno contatto con le esterne eccetera molte famiglie sono ancora ancorate proprio all'idea della scuola selettiva quindi la scuola valida è la scuola che seleziona se in quella scuola non c'è un certo numero di respinti vuol dire che non è una scuola valida quindi il problema grande è stato proprio anche trovare continui momenti di incontro di spiegazione di confronto con le famiglie per immetterli anche loro nell'ottica del cambiamento e soprattutto introdurre l'idea che non necessariamente è bravo solo il ragazzo che fa il percorso liceale perché ogni ragazzo ha le sue caratteristiche ogni ragazzo ha bisogno di un percorso personalizzato il ragazzo non deve essere l'elemento con cui la famiglia realizza i sogni del babbio e della mamma il ragazzo è un'entità a sé stante con dei suoi bisogni dei suoi sogni delle sue aspirazioni delle sue difficoltà e il nostro compito non solo della scuola ma anche dei genitori è cercare di assecondare queste caratteristiche del ragazzo non aspettarsi da lui chissà che cosa e contribuire alla mortificazione di quelle che sono le sue inclinazioni i suoi talenti le sue aspettative perché nei genitori abbiamo anche una grande contraddizione cioè vogliono la selezione perché altrimenti non è una scuola valida questo è ancora quello che si che passa principalmente però se tu provi a dare un'insufficienza al proprio figlio sono pronti a farti il processo sociale mediatico tutto quello che si vuole ecco quindi è comunque anche sulla nostra utenza esterna che dobbiamo lavorare molto perché altrimenti si rischia di creare una una scollatura una dei binari che non si incontrano come diceva prima il professore e quindi questo porta a grossi scompensi che noi ci dovremmo trovare ad affrontare facciamo un giro continuiamo così come come volete io sono autonomo allora quello degli insegnanti sicuramente è una delle tematiche principali anche nel nostro progetto a me piacerebbe che il preside Paolo Pendenza che prima ci ha mostrato quel bellissimo grafico è molto illuminante che si incrociassero quei dati sull'inclusione i risultati dell'apprendimento anche rispetto alla formazione che si fa agli insegnanti in un paese allo stipendio che hanno gli insegnanti in quel paese al numero di ore di lavoro effettivo diciamo degli insegnanti in quel paese e sarebbe bello vedere i risultati e allora noi come ho detto come gruppo originario di partenza eravamo molto motivati quindi avevamo la motivazione interna quella che ora cerchiamo di creare nei ragazzi diciamo che era una spinta molto forte e come dicevo tre eravamo formati un po' alla SIS eccetera un paio erano e sono counselor e avevano le loro motivazioni eccetera però lavorare sicuramente nella modalità in cui lavoriamo noi è un po' particolare quindi adesso che c'è un 20-25% degli insegnanti del liceo coinvolti nel progetto e questa è una tematica importante e noi diamo completa liberazione non c'è un obbligo anche perché essendo un progetto nato dal basso non si può obbligare nessuno nemmeno un dirigente può obbligare io non so per bene voi come vi comportiate insomma da dirigenti non si può obbligare c'è sempre la libertà di insegnamento per fortuna in Italia quindi si può stare all'interno di certi binari ma poi uno entra nelle aule e insegna a modo suo all'interno del nostro progetto c'è innanzitutto la regola ma sempre una regola diciamo un consiglio più che una regola che gli insegnanti siano favorevoli a partecipare al progetto alla sperimentazione e quindi che il dirigente e il dirigente non mettano chiunque lì dentro bisogna mostrare la disponibilità dopodiché ogni insegnante fa un po' come gli pare in aula ha un obbligo quello sì di non mettere i numeri di non di non valutare con i numeri quello però crea un qualcosa automaticamente perché nel momento in cui non puoi più valutare come si valutava prima devi modificare qualcosa e quindi quello ti costringe un po' a modificare tutto l'impianto didattico il rapporto con i ragazzi comincia a essere diverso devi far scattare motivazioni interne far piacere lo studio piuttosto che costringerli con la motivazione esterna del voto e quindi diciamo si innesca un meccanismo virtuoso che che porta a dei risultati finora decenti prima mi hai chiesto dei risultati forse non avevo risposto bene e noi ormai sono sette anni che siamo in funzione con questa modalità e sono uscite quindi già due classi che hanno fatto l'intero percorso del liceo scientifico all'interno del progetto il liceo Morgagna a Roma è anche valutato abbastanza bene Tuscopio ci mette al secondo posto tra i licei scientifici della città quindi diciamo è un in qualche modo se vogliamo dare credito a queste valutazioni è comunque un liceo scientifico abbastanza considerato dove il livello è medio buono diciamo degli insegnanti dei ragazzi eccetera e i nostri ragazzi sono usciti stanno andando all'università stanno ottenendo ottimi risultati abbiamo la sapienza che ormai ci collabora con noi ci segue ci monitora da quattro anni e sta iniziando a valutare questi risultati ma insomma io lo so dai messaggini che mi mandano i miei alunni il fatto che ci vengono a trovare che la maggior parte di loro sta facendo i percorsi universitari come fanno gli altri ragazzi che sono stati valutati per cinque anni con i voti però probabilmente con un benessere migliore e più favorevole io avevo una domanda per chi ha smontato le classi e sta facendo questo percorso posso? certo perché io sono molto meridionale si vede ma molto meridionale di Reggio Calabria e allora sono favorevole a una certa dinamicità diciamo ma non mi spaventa un po' lo smembramento completo del gruppo classe lo dico anche rispetto a quello che proponeva prima il professore che proponeva una delle domande diciamo che diceva che ci si possono porre allora io sono cresciuto col fatto che si può essere amici e dopo un po' non si è più amici si può essere fidanzati dopo un po' non si è più fidanzati ma si è compagni di scuola per tutta la vita e io infatti ho i compagni di scuola per tutta la vita cioè tra i banchi per quanto stretti e un po' sacrificanti sicuramente le libertà tra i banchi nascono il fatto di stare sempre a fianco a qualcuno o in qualche modo si è anche costretti a intessere delle relazioni molto intense ora a me un po' diciamo da questo punto di vista essendo cresciuto con questa cultura forte dell'amicizia del senso del compagno di scuola un po' mi spaventa il fatto che uno non ha più il proprio posto il proprio ambiente qualche anno fa mi ricordo sono venuti dei ragazzi che si erano diplomati sono voluti andare a vedere l'aula no professore ma possiamo andare a vedere l'aula dove siamo stati cinque anni perché anche quello fa parte della crescita relazionale quindi mi domandavo all'interno delle vostre scuole se riuscite a conciliare anche questo aspetto visto che sono in ordine in realtà probabilmente è più lui che fa questa no dunque noi in realtà i gruppi classe rimangono quelli cioè non siamo ancora riusciti a intervenire sul classe in senso proprio latino quelli nati nello stesso anno la leva come quando facevamo in militare per cui rimane compatto abbiamo un'organizzazione di classe per cui la classe viene divisa in due Atene e Sparta dalla A alla L e dalla M alla Z perché col gioco dell'autonomia riusciamo a fare molte ore in 12 studenti cioè in metà classe quindi questo è un fattore di potenziamento non solo spesso accade che ci sia l'insegnante di inglese insieme a quello di tecnologia proprio perché in questa organizzazione nuova riusciamo a avere questa compresenza che può essere utilizzato o per approfondire argomenti miei o per fare dei lavori insieme c'è molto questo tema del multidisciplinare a noi in realtà va capovolto il paradigma perché esiste la classe poi del professor Barca della professoressa Montorsa della professoressa Rivalenti e i ragazzi però sentono proprio la scuola cioè cambia il paradigma noi anche io so barese ho studiato anche io io ci andrei pure io a cercare la mia aula liceo scacchi ma quello che vedo in loro quando poi escono poi in realtà noi fanno tre anni di esperienza e quindi è molto più anche come tempo è molto più limitato quando loro escono sentono la scuola e il loro spazio per esempio noi abbiamo un grande spazio d'ingresso quello con le luci dove parlavo io che si chiama Gorà la Gorà è il loro spazio di vita perché d'inverno spesso dobbiamo farci ricreazione perché dobbiamo stare al coperto ma per esempio fanno tante attività didattiche anche in quello spazio quindi ti assicuro che il tema relazionale viene conservato addirittura forse in maniera più forte perché io riesco anche a essere amico di Daniele che non è nella mia classe perché qual è il problema il problema è che quando vengono da elementari i genitori vorrebbero che stessero con l'amico del cuore ma la stragrande maggioranza l'amico del cuore lo perdi è così perché te ne fai altri nella mia esperienza di vita è stato così e allora invece quest'idea che comunque c'è del movimento che io posso rincontrare il mio amico con cui vado a giocare a pallone a pomeriggio nel corridoio nello spostamento classi è comunque un'idea forte vincente da un punto di vista proprio delle relazioni cioè non c'è non è che il non avere la terza B non mi permette mi permette di come dire entrare in sintonia con i miei amici della terza B anzi il capovolgimento di ottica mi permette di avere più amici tanto che spesso questa dimensione interclass è una dimensione fortissima proprio anche nelle varie attività che si fanno e quindi dal punto nostro di vista abbiamo iniziato io li chiamo i quattro cantoni a toccare la classe e l'aula quindi di fatto non c'è la classe quelli nati allo stesso anno che stanno nello stesso spazio fisico da questo abbiamo cambiato il tempo perché cambia naturalmente anche l'orario in un'organizzazione simile e abbiamo cambiato anche il curriculum con quello che dicevo prima venendo poi agli insegnanti io mi sono ritrovato come dire ho avuto assegnata questa scuola come dirigente che c'era questo nucleo di io le chiamo scherzando le madri fondatrici cioè di persone che come da te volevano fare questo percorso cosa è successo negli anni ogni anno abbiamo fatto una acquisizione la cosa bella del percorso è che insieme a me che venivo da un'esperienza che andava nel senso dell'utilizzo quotidiano delle tecnologie ogni anno abbiamo fatto una scelta ma naturalmente in questi sette anni c'è chi è andato in pensione c'è chi si è trasferito per amore la scuola italiana e questa roba qua diciamo che avviene un'autoselezione cioè già il fatto che l'insegnante sa che ogni ragazzo ha un suo strumento già non ci vengono questo è un dato perché hanno paura naturalmente di gestire lo strumento e già il fatto che i ragazzi girano per le aule da soli ecco questo vi sono dimenticato di dire il fatto della rotazione il fatto che girano è uno strumento eccezionale anti bullismo per usare una parola che io non amo è uno strumento eccezionale per evitare gli incidenti io ogni tanto faccio per far vedere agli elementari che devono un attimo provare a lavorare in maniera più aperta faccio vedere le statistiche degli incidenti cioè lì c'è sempre la vigilanza e ho statistiche altissime alle medie dove non c'è mai la vigilanza perché girano da soli abbiamo statistiche bassissime 3-4 incidenti al mese insomma quindi pochissima roba e quindi il tema di eliminare le frizioni il benessere è fondamentale proprio in questa idea adesso siamo arrivati dopo 7 anni cosa è successo gli ultimi due concorsi è venuta gente che voleva fare questa esperienza cioè chi ha chiesto di venire alle mattarella è perché stava male nelle altre scuole e ha detto voglio venire a fare questa esperienza ultima cosa se arriva un insegnante che è fuori dal cerchio si vede subito perché sono le famiglie che ce lo segnalano cioè questo insegnante ha dato una verifica su google di 40 item da noi non si fa una roba per principio proprio capito e allora emerge subito in senso negativo grazie a dio arriva qualche precario poi battuta ma semplicemente battuta i padri costituenti la libertà di insegnamento la fece per gli studenti non per i docenti perché il tema era che lo studente potesse non avere uno che entra in classe e insegna la stessa storia sullo stesso libro dopo 40 anni di onesta professione come dice il cantante grazie professor Franceschini veramente anch'io bello lo spunto grazie uno spunto che abbiamo discusso penso cento volte perché il gruppo classe chiaramente quando lo scardini ti interroghi faccio un bene faccio un male forse abbiamo una condizione particolare la nostra tanti mi chiedono se il modello è replicabile tutto è replicabile ma non in modo uguale assolutamente noi abbiamo viaggiato ma ricordo ancora l'Olanda dei modelli che ci piacevano ma non c'è c'è qualcosina da lì ma il nostro è unico è unico perché abbiamo delle situazioni particolari abbiamo 400 allievi le vostre scuole sono più grandi ho visto è più difficile 6.500 studenti come fai a non avere la classe devi inventarti qualcosa là entra in gioco quella fantasia creativa quel sognare andare un po' oltre però oggi a noi è fattibile perché la classe è di 70 studenti a questo punto l'altro giorno è arrivato in dire l'osservatrice entra dentro spaventata ma come una classe da 70 sì quel problema c'è non è da 25 ma da 70 perché è quello il nostro ragionamento e poi dentro capita questa magia che i ragazzi girano nei gruppi e quindi hanno 70 compagni di classe dovranno trovare una pizzeria grande fra qualche anno perché vanno in 70 a mangiare la pizza non più in 25 ma questo è il problema forse ok però ognuno fa il suo è come diceva lui però i ragazzi inizialmente sono un po' spaventati ma io vorrei stare con la mia amica dopo il primo anno ti dicono che bello io conosco un sacco di gente è proprio figo oggi ne vanno orgogliosi perché hanno fatto l'assemblea d'istituto dove hanno marcato quanto è bello stare in un ambiente così così diverso così alternativo per i docenti confermo è tanto nei docenti anche qua la situazione è particolare perché non abbiamo un grande giro di docenti è chiaro che se ogni anno avessimo un ricambio come fai? come fai a portarli a bordo e ad implementare un modello che ha una vision molto forte e noi abbiamo docenti che sono fantastici perché hanno sposato la causa e penso che abbiano dentro l'idea di vocazione dell'insegnante se hai questa vai avanti altrimenti io dico pensiamo un altro lavoro perché è finita l'epoca del vado faccio il minimo poi ho qualcos'altro quindi la chiave è qua i docenti che ci credono quanto noi e c'è anche una bella condivisione che non basta mai c'è anche un momento di qualche conflitto positivo ma quando nasce perché ti interroghi cominci a dire adesso il tema è togliamo i voti è una grande avventura e uno dice ma è 15 anni che stiamo perché? perché? perché diceva lui perché pensiamo che anche noi quelli in questo momento ci mettono in difficoltà non ci stanno aiutando quindi è continuare a condividere ma di fondo uso un bel termine tutti ci crediamo bene io vi ringrazio molto abbiamo fatto una sorta di Erasmus scolastico senza muoverci dallo zandonai magari vi rincontrerete magari girerete ecco per cui grazie per questo scambio di esperienze facciamo un applauso a questi dirigenti e professori grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti